Bella a tutti ragazzi, sono Mark Hill dello staff di Noi Malati di Foot. Oggi siamo nella player review di Andrea Pirloif, che è carta guadagnata per il suo ottimo, veramente ottimo gol da low shot, diciamo, in campionato con la Juventus. CC parte da CC con 85 di overall, 44 di velocità, 84 di reading, 73 di tiro, 57 di difesa, 93 di passaggio e 63 di fisico. Iniziamo dal passaggio che è assolutamente, ma assolutamente un pro. Allora, il passaggio si suddivide in 97 di passaggi lunghi e 94 di passaggi corti, con un 94 di controllo palla e un 98 di visione. Allora, iniziamo dalla visione che è veramente ottima, cioè, una visione fenomenale, un pro assoluto. Però, per visione, come facciamo a dire che è una visione buona o no? In fondo siamo noi che dobbiamo vedere i giocatori dove vanno. È buona perché te puoi mettere un qualsiasi passaggio filtrante a occhi chiusi, dove ti pare che arriva veramente a un compagno. Arriva a un compagno. È veramente una cosa bellissima. Poi quel 94 di controllo palla e 97 di passaggi lunghi e 94 di passaggi corti, non so quanti assist mi abbia fatto, veramente. Ti vanno in porta con una semplicità assurda. Passiamo al dribbling che è collegato, che è un 84 sulla carta, che si suddivide nel 94 di controllo palla e nel 79 di dribbling. Allora, non lo metto né tra i pro né tra i contro perché, allora, sarebbe un pro perché 84 sulla carta è comunque un gran dribbling. Cioè, comunque quando cammina, perché non corre, cammina, li supera i giocatori. Però non può essere un pro perché parte quella velocità che è scadente e poi le due stelle skill che sono un assoluto contro. Le due stelle skill non lo aiutano per niente. A me che, cioè, particolarmente mi piace un po' fare le skill, con le due stelle skill mi ha fatto ritorciare il naso. Passiamo al tiro, il 73 sulla carta, che si suddivide in un 62 di finalizzazione, un brutto valore però per un 100 campi centrale non può così effetto. Un 86 di long shot, un 87 di rigori e un 81 di forza tiro e un altro di tiro al volo. Allora, la finalizzazione, come ho detto, non c'è gioca a pista centrale, non si sente, quindi neanche se basta. Passiamo ai long shot che sono veramente belli, però non devi tirarli di potenza perché di potenza a volte scombelli, a volte no. Devi tirarli a giro con l'effetto perché lui ha 96 di effetto. Sono una cosa, veramente. Ho fatto due gol perché, cioè, non ho tirato molto comunque. Ma sono usciti uno, non è riuscita, non è uscita la clip, non so ancora il motivo. L'altro, wow. Cioè, c'è la clip, la vedrete, probabilmente, non lo so, adesso forse. È veramente una cosa, wow. Passiamo al 44 di velocità sulla carta, che si suddivide in 56 di accelerazione e 33 di velocità scatto. E con il 56 di accelerazione io non mi fa né caldo né freddo, cioè perché comunque non si sente, che è così basso. Mentre il 33 di velocità scatto si sente, quindi 5 metri e poi basta, non puoi più correre perché si sente. Il 63 di fisico non l'ho sentito per niente perché è aiutato comunque dal suo equilibrio. 82, cioè, boh, non cadeva bilanciamente l'equilibrio. Sono molto alti. 82 e 91. Quindi, in conclusione, in difesa devo aggiungere l'ultima cosa, mi intercettava di tutto. In conclusione, è un giocatore, io gli do 10 meno perché mi sono trovato veramente bene. Voi, cioè, la maggior parte dei giocatori probabilmente non gli piacerà molto, quindi sarà da un 7 e mezzo per gli altri, per chi non lo sa usare. Per questo arrivi a tutto, passate la WebCons FIFA se volete acquistare crediti e inserite il codice QVALMATI15 e ciao gente!